Chi mi assicura che l'assicurazione che sto comprando faccia veramente al caso mio? Probabilmente non mi siete mai chiesti quali norme ha posto il legislatore per tutelare chi stipula polizze assicurative a contenuto finanziario e non, o in che modo i produttori e distributori di questi prodotti devono attrezzarsi affinché la creazione e la distribuzione di questi prodotti sia conforme alla disciplina. Lo state per scoprire in questo video. Benvenuti, vi chiedo la gentilezza di lasciare un bel like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Partiamo subito. L'oggetto di questo video sarà la direttiva IDD, Insurance Distribution Directive, alcuni regolamenti delegati, il codice dell'assicurazione private e altri regolamenti IVAS. La direttiva è una direttiva di armonizzazione minima, mentre la MIFID è di armonizzazione massima. Cosa significa armonizzazione minima e massima? Significa sostanzialmente che poi il governo che deve recepire questa direttiva può comunque avere uno spazio di manovra per adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, ove lo ritiene più utile. I destinatari della direttiva sono qualsiasi tipo di soggetto che opera nella filiera di distribuzione assicurativa. Sono esclusi quelli che fanno mera informazione, ad esempio un blogger o un sito di comparazione dove non si può stipulare un contratto di assicurazione. Chi fa consulenze a titolo accessorio in materia di assicurazione, come può essere un avvocato o un commercialista che ti dice Ah sì, qui magari ci vuole un'assicurazione da fare, ah qui no. Quelli che fanno una distribuzione a titolo accessorio, come ad esempio la garanzia che estendi quando vai da MediaWord o così così. Quindi il servizio di assicurazione è complementare al prodotto venduto da questo fornitore. Oppure se il premio è inferiore a 600€ e l'assicurazione dura meno di 3 mesi e comunque si sta nell'importo di 200€ a persona per premio. Quindi magari si intendono le assicurazioni sui viaggi. Oppure se i rischi coperti sono limitati, ad esempio deterioramento, perdita, danneggiamento del prodotto, mancato uso del servizio, danneggiamento, perdita di bagagli, eccetera eccetera. Viene imposto alle aziende di mettere in moto un meccanismo in cui le attività sono procedimentalizzate. C'è l'obbligo di un rafforzamento di informazioni e di fornitura di documenti precontrattuali, si parlerà anche di consulenza. È necessario ovviamente che i prodotti venduti al target di riferimento siano adeguati, quindi parleremo di adeguatezza. E come sempre non è possibile vendere prodotti che esistono solo abbinati. Cosa intendiamo per la distribuzione assicurativa e riassicurativa? La proposta di prodotti assicurativi, oppure la prestazione di assistenza e consulenza, oppure il compimento di altri atti preparatori relativi alla conclusione di contratti, oppure la conclusione, ovvero la stipula di tali contratti, oppure la collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Oppure ancora, bisogna fornire tramite sito internet o altri mezzi informazioni relative ai vari contratti di assicurazione, anche confrontati e ordinati sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto. La disciplina è proporzionale e si applica unitariamente a tutti i canali distributivi e a tutti i prodotti, e vedremo regole di informazione, di condotta e di governance dei prodotti. Sono considerati i distributori, le imprese di assicurazione e i loro dipendenti, gli intermediari bancari e finanziari, come anche le poste, i gestori di siti comparativi in cui si stipula un contratto, ovvero ad esempio segugio.it se non sbaglio, e poi intermediari assicurativi a titolo accessorio sopra soglia. I prodotti che andiamo a vedere sono i PRIP, ovvero i prodotti di investimento preassemblati, che sarebbero prodotti di investimento in cui, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni, a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi, che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio. Poi abbiamo gli IBIP, ovvero i prodotti di investimento assicurativi, in cui la prestazione dipende da attivi sottostanti di ramo terzo, ramo quinto e gran parte del ramo primo, e qui vengono incluse anche le polizze vita rivalutabili. Poi abbiamo i PRIP, che sono prodotti assicurativi di investimento a dettaglio preassemblati, sono qualsiasi prodotto che rientra in una delle definizioni del PRIP o dell'IBIP. Per quanto riguarda le informazioni e i documenti informativi precontrattuali, abbiamo il DIP, documento informativo precontrattuale, può essere DIP danni o DIP vita, il KID, Key Information Document, che fornisce le informazioni chiave per i prodotti di investimento, ed è identico per tutti i PRIIIP. Poi c'è l'IIDIP, che è il documento aggiuntivo per i prodotti assicurativi che devono redigere le imprese e gli intermediari che li realizzano. Poi c'è la POG, la Product Oversight and Governance, che determina il governo del prodotto sostanzialmente. La POG quindi va a definire un po' come deve essere gestito questo prodotto, e qui ci sono gli organi di vigilanza che vanno appunto a vigilare sulle varie fasi, ad esempio. Per la distribuzione, la Consob vigila sulla distribuzione effettuata dal canale bancario, mentre l'Ivas vigilerà su tutti gli altri canali. Per la trasparenza precontrattuale, la Consob vigila sul KID, mentre l'Ivas vigila sul DIP aggiuntivo. Per la POG c'è la vigilanza dell'Ivas. Grazie alla POG viene assicurata l'adeguatezza al target market, ovvero cos'è questa POG? È un documento che descrive gli obblighi di organizzazione che identificano nei bisogni dei clienti le basi del processo di gestione dei prodotti. Quindi si va a distinguere tra la POG del produttore e la POG del distributore. La POG del produttore è una policy scritta che deve descrivere le varie fasi di vita del prodotto. Si va da un processo di ideazione e approvazione del prodotto, poi si individua il market target, poi si fa del product testing e questo testing è fatto pre-commercializzazione e poi dopo una revisione. Poi c'è un monitoraggio, poi c'è un'altra revisione, poi c'è una selezione dei canali distributivi. Bisogna mettere tutto questo per iscritto e poi si rivede l'intera policy per capire se è adatta allo scopo che si vuole ottenere. Se tutto fila liscio, si approva la POG e poi si approva chiaramente il prodotto. La POG del distributore è sempre una policy scritta e descrive i meccanismi di distribuzione stavolta. Quindi si definisce la strategia distributiva in questo documento, si valutano le esigenze del target, si stabilisce cosa bisogna informare, su cosa informare, che informazioni sono necessarie, si definisce come prevenire i pregiudizi possibili ai clienti, come gestire gli eventuali conflitti di interesse, cosa comunicare al manufacturer, al produttore, se non c'è rispondenza del prodotto agli interessi dei clienti, oppure se c'è aggravamento del rischio di pregiudizio, oppure se ci sono reclami relativi ai prodotti distribuiti. Qui il legislatore impone di agire in modo il quone, sto professionale corretto e trasparente, di non recare pregiudizi, le informazioni sulla distribuzione, incluse le comunicazioni pubblicitarie indirizzate dai distributori e i contraenti o potenziali contraenti, devono essere chiare, non fuorvianti, imparziali e complete. È necessario acquisire informazioni necessarie per valutare bene le esigenze dei clienti, bisogna operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati. Per valutare le richieste e le esigenze assicurative o previdenziali del cliente, bisogna effettuare il test di adeguatezza, che è una forma tutelante abbastanza forte. E quindi il distributore deve acquisire le info necessarie per valutare l'adeguatezza. E tra queste informazioni ci sono ad esempio l'età, lo stato di salute, l'attività lavorativa, la composizione del nucleo familiare, la situazione finanziaria assicurativa, le aspettative sul contratto, bisogna tenere conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio che si vuole correre, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto. Bisogna fornire informazioni oggettive sul prodotto, come ad esempio le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura, ed ogni altro elemento utile a consentire di prendere una decisione informata. Il rifiuto di fornire informazioni deve risultare da una dichiarazione sottoscritta dalle parti, dalla quale risulta chiaramente che ciò pregiudica l'individuazione del contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente. Se i distributori ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con richieste ed esigenze del contraente, devono informarlo di questa circostanza, specificare i motivi e dare evidenza in una apposita dichiarazione sottoscritta dalle parti e conservata su un supporto durevole. Bisogna inoltre garantire che ci sarà riservatezza delle informazioni, quindi chiaramente anche la GDPR si applica in questo ambito in qualche modo, no? E consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente. La documentazione dalla quale risulta la raccomandazione personalizzata deve essere sottoscritta dal contraente e conservata dall'intermediario su un supporto durevole. La vendita può essere con consulenza o con consulenza imparziale, ovvero indipendente. Restano in ogni caso gli obblighi di valutazione delle esigenze assicurative del cliente e il distributore quindi può decidere di fornire la sua consulenza. Ovviamente la consulenza ha un carattere di raccomandazione personalizzata nella quale si indicano i motivi per cui un prodotto è più appropriato a soddisfare le esigenze del cliente. La consulenza imparziale viene fatta su un numero sufficiente di contratti sul mercato e consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente. La documentazione dalla quale risulta la raccomandazione personalizzata deve essere sottoscritta dal contraente e conservata dall'intermediario su un supporto durevole. La vendita abbinata non è possibile se i prodotti o i servizi devono essere obbligatoriamente abbinati e quindi questi prodotti devono essere acquistabili separatamente. Per i prodotti IBIP sono introdotti dei requisiti aggiuntivi ovvero bisogna valutare l'adeguatezza nella consulenza chiedendo al cliente informazioni riguardanti le conoscenze ed esperienze in ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio la sua situazione finanziaria ovvero la capacità di sostenere le perdite quali obiettivi di investimento ha qual è la sua tolleranza al rischio per consigliare prodotti che siano adatti a lui e adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite se il cliente non fornisce le informazioni non si può concludere il contratto bisogna sempre effettuare la valutazione delle richieste e delle esigenze del cliente invece se c'è un test di appropriatezza una valutazione di appropriatezza che è una forma più leggera rispetto all'adeguatezza qualora si dovessero configurare delle incongruenze oppure qualora queste informazioni non venissero fornite l'incoerenza non configurerebbe la nullità del contratto quindi uno può stipulare anche se questo contratto non fa al caso suo per quanto riguarda il conflitto di interesse qui il legislatore ritiene possibile eliminarlo totalmente attraverso la messa in atto di strutture organizzative particolari ad esempio i distributori devono mantenere e applicare presidi organizzativi e amministrativi proporzionali ed efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti adottano poi misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro inclusi i dirigenti e i dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione se dopo aver messo in atto queste disposizioni organizzative non si è in grado di eliminare il conflitto di interesse il distributore deve informare chiaramente i clienti per quanto riguarda la retribuzione delle reti distributive c'è il divieto di adottare dei sistemi di remunerazione che educano gli addetti alla distribuzione a raccomandare un prodotto al posto di un altro quindi se un prodotto fa guadagnare delle provvigioni più alte di un altro tu non lo puoi raccomandare cioè in realtà non dovrebbe esistere un prodotto che ti fa guadagnare di più se tu lo vendi qui abbiamo i rimedi in caso di violazioni con violazioni ovviamente intendiamo quelle delle regole di condotta e sono simili a quelle che si applicano per i prodotti complessi se c'è la violazione delle regole di informazione c'è la nullità del contratto bisogna svolgere sempre un controllo di meritevolezza come da articolo 1322 del codice civile la vendita fuori target configura la nullità per impossibilità giuridica parziale dell'oggetto del contratto la vendita non nell'interesse del cliente configura la nullità del contratto per violazione di norme imperative mentre il mutamento delle condizioni e il mutamento delle necessità del target configurano una risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto del contratto spero questo video vi sia stato utile ci sentiamo al prossimo appuntamento grazie a tutti ciao ciao